Io mi sento di fare soprattutto un augurio a scrittori italiani e spagnoli, da sempre accomunati da tutta una serie di cose ma soprattutto dal loro rapporto con la religione cattolica, un augurio dicevo e una richiesta cioè quella di non eludere soprattutto in un momento così particolare per il mondo le domande importanti. Le domande importanti, quelle che a volte si fanno i bambini, vengono continuamente al giorno d'oggi messe da parte in nome di richieste più urgenti che riguardano il mangiare, il lavorare, la salute. Il problema è che come ci stiamo accorgendo forse è stata questa illusione a portarci ai disastri anche pandemici come quello che stiamo vivendo. Ecco devono essere gli scrittori a gettare sempre più in là la rete fantastica che gli differenzia da tutti gli altri perché la ricerca della verità, la ricerca delle... di una risposta alle grandi domande credo abbia a che fare con la logica sì ma soprattutto con la fantasia. Tutti oggi esprimono la loro opinione, è giusto che sia così. Poi però deve esserci qualcuno che tiri le somme del discorso e se non lo fanno gli scrittori dubito che possa farlo qualcun altro. Questo è un compito della letteratura, è un compito dell'arte. Perciò questo è l'augurio che faccio ai miei colleghi e ai miei amici scrittori di non eludere le domande importanti. Grazie. 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 Grazie.